La misericordia per me è uno sguardo nuovo, un modo di guardare le cose. Quando io penso alla misericordia penso a come Dio mi guarda, a come Dio guarda gli altri miei fratelli e sorelle che vivono su questa terra e a come Dio guarda le cose, a come le vorrebbe e a come le guarda nonostante non siano come Lui le vorrebbe e questo mi fa pensare anche a mia volta a come dovrebbe essere il mio sguardo verso le realtà del mondo e verso le persone che il Signore mi fa incontrare lungo il cammino su questa terra. Grazie